In questo video voglio mostrarti un esercizio che io chiamo di riscaldamento che serve ad attivare la circolazione sanguigna. Questo esercizio non fa aumentare il volume dei muscoli ma dona al viso un aspetto più radioso e più tonico. Allora, in cosa consiste l'esercizio? Pronuncia in modo accentuato e lento la parola Y, così. Y, 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 Y e se hai difficoltà con la mandibola, con l'articolazione, fa un po' più di attenzione. E poi dopo che hai fatto dieci volte Y, fai il contrario, Y, così. Vedrai che dopo aver fatto dieci volte Y e dieci volte Y, sentirai il viso tutto tonico e radioso. Anche il colorito sarà diverso.